notarizzazione notarizzazione mettiamo le cose in maniera permanente sulla blockchain e che vantaggio abbiamo realmente dipende dipende ciao a tutti e buon caffè allora anche oggi tipo clarkent via gli occhiali e parliamo di notarizzazione ovvero una delle applicazioni diciamo extra monetarie più conosciute più diffuse più utilizzate della blockchain in generale a partire da quella di bitcoin andiamo a vedere insieme che strumento è che cosa fa che garanzie dà e andiamo a sfatare alcuni miti video importantissimo perché nonostante abbiamo parlato di questo argomento diverse volte negli ultimi anni oramai ancora saltualmente si vedono fuori degli errori cioè sia da una parte il fatto di dire non ho capito cos'è la notarizzazione oppure per me non serve a niente e dall'altra parte invece risolverà i problemi della fame del mondo e come dire sarà un dono degli alieni da tanto che è bellissimo no nessuna delle due la notarizzazione come tutte le cose praticamente in questo settore è uno strumento e come tutti quanti gli strumenti ha dei punti di forza e dei punti di debolezza dipende da come viene utilizzato uno strumento nella maniera corretta nel contesto giusto e lì si è usata bene da dei risultati altrimenti non ne dà quindi per capire innanzitutto cos'è cosa fa e quali sono queste garanzie se ci sono e a chi le dà facciamo un po un escursus sulla cosa la notarizzazione è quel processo per cui io posso prendere un documento ricavarne l'hash quindi pronta digitale del documento che non varia bit a bit eccetera eccetera e depositarla in blockchain faccio questa operazione perché la natura immutabile della blockchain fa sì che ci sia una prova una marcatura che è collegata a quel documento perché voglio tirarne fuori delle prove delle evidenze voglio utilizzare questo strumento per avere o per dare delle garanzie ma a seconda del tipo di notarizzazione che vado a fare nel modo in cui vado a eseguire questa operazione queste garanzie possono variare moltissimo innanzitutto l'operazione avviene perché c'è un soggetto a elis solita che fa la notarizzazione e c'è almeno un soggetto b bob che invece è il verificatore di questa notarizzazione ovvero quello che deve vedere le prove che gli vengono fornite da elis e prendere delle decisioni o comunque avere diciamo tirare fuori delle conclusioni da queste prove a seconda di come viene fatta questa operazione e in che contesto questa operazione può dare delle garanzie ad elis o e a bob ma dipende molto da come viene fatta quindi vediamo i principali sistemi per fare questa notarizzazione capiamo quali sono i loro reali punti di forza e le debolezze partiamo da quello più classico quello più classico è open timestamps su bitcoin quindi bitcoin rete diciamo blockchain o time chain per eccellenza quella più sicura di tutte e questo questo prodotto questo protocollo è stato proposto da peter todd già diversi anni fa e l'idea fondamentalmente quella di avere una marcatura temporale in blockchain di un gruppo di documenti funziona più o meno così n persone vanno da un server e gli dicono guarda io vorrei notarizzare questo documento ti do l'hash del documento non il documento ti do l'hash del documento il server raccoglie raggruppa tutti quanti queste hash tramite un merkel tree da cui ottiene un'unica hash la deposita sulla rete bitcoin tramite un'operazione di opreturna e alla fine a tutte quante le persone che gli hanno chiesto di fare la notarizzazione gli restituisce la transazione di fatto dove ha fatto l'opreturn e una prova di esistenza del fatto che quell'hash in blockchain nonostante sia diversa da quella del documento è in realtà raggruppata insieme ad n altri presente quindi come se quella depositata in blockchain fosse un riassunto è un protocollo sicuro sicuramente sì nel senso che ci sono come dire passaggi matematici che dimostrano che tutto quello che è stato fatto può essere lineare quindi con alla mano il documento e la prova d'esistenza e l'hash in blockchain io ho tutti gli elementi che mi servono per identificare che quell'operazione effettivamente è stata fatta ma questo vuol dire che è utilizzabile per tutto questo vuol dire che diversi prodotti che ci sono in giro che si basano su questo sistema danno delle effettive garanzie no neanche lontanamente perché perché l'unica reale garanzia che questo protocollo dà è che quel documento esisteva in un certo momento del tempo per quello si chiama time stamping cioè il documento esisteva era quello non è stato cambiato di una virgola ed esisteva già a partire da quella data stop non ci dà nessun'altra garanzia ok non ci garantisce che è stato ellis a scriverlo perché la prova all'esistenza potrebbe essere presentata da terzi che l'hanno a cui ellis ha passato diciamo i documenti o che gli hanno rubati non abbiamo la garanzia che ellis abbia scritto soltanto quello quindi come dire se quello deve essere un commitment serio di ellis quindi ad esempio scommetto su quale sarà il classico esempio la squadra che vince il campionato e mi porti che ha vinto quella e non so se tu hai detto anche che avrebbero vinto tutte quante le altre bob può essere sicuro che quel documento l'ha scritto ellis quindi no può essere sicuro che ellis ha detto soltanto quello che non sta cercando di tenere il piede in due scarpe no l'unica cosa che può avere per certa è che qualcuno aveva quell'informazione quel documento in quel momento nel tempo non ci sono altre utilità diciamo di questo tipo di notarizzazione ok quindi se il progetto o l'obiettivo che abbiamo è solo quello di dimostrare che quell'informazione esisteva in quella data allora questo protocollo è perfetto 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 ma se è poco poco ho bisogno di qualche garanzia in più questo strumento questo protocollo qua non è più assolutamente sufficiente e non dà assolutamente nessuna garanzia extra allora proviamo a migliorare la situazione che cosa potrebbe darmi delle garanzie in più ad esempio invece di utilizzare un timestamping server di open timestamp quindi di mescolare la mia transazione insieme a quelle di tanti altri faccio io direttamente una notarizzazione mettendo la sola hash del mio documento all'interno di un operaturn quindi praticamente invece di usare mezzo pubblico uso un mezzo privato ho un pelino di garanzie in più nel senso che se io porto la pro proof of keys cioè se io dimostro di essere in possesso della chiave privata che ha fatto quella transazione presumibilmente sono anche l'autore della notarizzazione stessa e quindi il proprietario del documento ma presumibilmente perché in realtà anche qui questa dimostrazione è estremamente estremamente blanda c'è un elemento in più però elis può fare questa notarizzazione ma in qualsiasi dei due esempi bob è un po fregato cioè bob in realtà non ha delle forti garanzie da parte di elis nel senso se e quando elis volesse rivelare questa cosa allora ha un elemento che viene dato a bob ma elis potrebbe anche addirittura non rivelarla cioè c'è l'elemento anche della ripudiabilità quindi non solo bob non ha la garanzia che quella notarizzazione sia stata fatta ad elis ma ha anche il problema che anche se lui in qualche maniera la trovasse non può imputare ad elis quella informa quella notarizzazione e di conseguenza l'informazione dei documenti questo è un elemento fondamentale da tenere in considerazione perché tutte le volte che ci viene proposto di fare una notarizzazione dobbiamo avere chiaro in mente se in quel contesto noi siamo elis o bob perché se siamo bob e utilizziamo questo sistema di notarizzazione siamo un po fregati nel senso siamo un po alla merce di elis che potrebbe dire di non essere stata lei averne fatta 12 invece di una tirarci fuori solo quella che le conviene eccetera 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 ma allora inutile allora non si può fare no ci sono altri modi un po più articolati un po più complessi dove questo elemento può dare delle informazioni aggiuntive può portarsi dietro e quindi dare delle garanzie aggiuntive ad esempio una prima cosa che si potrebbe fare potrebbe essere quella di concordare a priori quale sarà l'indirizzo che farà la notarizzazione a quel punto lì elis è vincolata nel senso deve utilizzare quell'address quindi la transazione deve provenire da quell'address quindi lei deve dimostrare di avere le chiavi private di quell'address di poterlo utilizzare soltanto lei e a quel punto tutto quello che uscirà fuori da quell'address sarà analizzato per dire tu hai detto quello o hai detto anche altre cose che in questo momento non vuoi negarci quindi un primo passaggio per dare più garanzie a bob è quello di concordare prima il fatto che elis utilizzerà quella chiave che è fondamentalmente la stessa cosa che succede con la famosa chiavetta della firma digitale che ci viene assegnata perché perché quello come dire qualsiasi firma uscirà da lì da qualche parte c'è scritto in maniera centralizzata che quella chiavetta è nostra che quindi quelle chiavi sono nostre quindi quelle firme le abbiamo fatte noi si possono a questo punto aggiungere degli altri elementi alla notarizzazione quindi in questo caso è molto più semplice farlo con blockchain non bitcoin quindi un blockchain ad esempio edm perché le transazioni delle blockchain edm sono più elastiche sono più malleabili quindi cosa vuol dire che io posso depositare nella transazione dei dati in più dei dati extra allora è possibile fare anche questa cosa eventualmente con la time chain di bitcoin è un po più complicato nel senso che lì la cosa che si potrebbe fare è una cosa simile a quella che viene attualmente fatta sugli ordini al secondo di utilizzare lo script di taproot per inserire dentro degli altri elementi eccetera eccetera comunque si può fare in entrambe nel caso delle evm è molto più facile molto più immediato si può fare anche su quelle di bitcoin ma perché stare a sporcare bitcoin con della roba inutile perché allora che cosa si fa sulle evm e le transazioni hanno la possibilità di includere molti dati quindi oltre alla singola esce del documento si possono inserire altri elementi che creano di fatto un contesto a quella informazione dove diventare molto più facile aggiungere gli elementi per cui l'informazione e il suo contesto sono ancorabili a quella che è l'utilizzo che devo andare a farne quindi ad esempio se io ho predefinito l'indirizzo quindi l'indirizzo di quell'utente per quello specifico scopo è noto a priori la transazione viene fatta da quell'indirizzo nel corpo della transazione io ho l'esce del documento ed eventualmente ho anche altri elementi al contesto allora lì le garanzie incominciano a salire e a quel punto lì bob può opporsi o meno all'informazione a seconda di come questa viene utilizzata da qui in avanti quindi aggiungendo informazioni non limitandoci alla sola esce del documento è possibile creare delle situazioni o comunque delle applicazioni in cui la notarizzazione comincia a diventare utile quindi a fornire delle garanzie non soltanto a chi la emette ma anche a chi la riceve nella maggior parte delle applicazioni questa notarizzazione deve essere fatta in maniera tale che sia inoppugnabile che cosa vuol dire vuol dire che chi la riceve non può non accettarla non può non come dire ignorarla perché ci sono informazioni al contesto che dimostrano che tutto quanto quello che sta scritto lì dentro rispetta quelli che sono i patti che c'eravamo come dire che avevamo fatto prima di incominciare quindi potrebbe essere quello per un testamento un atto di proprietà cose di questo genere quindi gli elementi la notarizzazione da sola l'esistenza del pdf da solo del documento dell'esistenza da sola in molti casi non è sufficiente e attenzione perché molto spesso ho visto questa sola applicazione essere utilizzata in teoria per risolvere qualsiasi cosa quando non è così mentre se vogliamo qualche cosa siamo un po più come dire in contesto va sempre analizzato da ambe le parti quindi riassumendo la notarizzazione può funzionare assolutamente sì a condizione che sia fatta bene a condizione che comprenda diciamo le esigenze di entrambe le parti Alice e Bob a condizione che gli elementi che vincolano Alice a farla in un certo modo siano delle garanzie per Bob quindi Alice non deve essere libera di fare tutto quel cavolo che vuole ma deve essere molto vincolata e come dire con dei patti progressi che stabiliscono come verrà verificata questa notarizzazione in maniera che Bob poi alla fine non possa esimersi dal considerarla valida è un processo che deve vincolare in maniera molto forte e molto dimostrabile ambe le parti questo era come dire un video per mettere un po correggere alcune cose che ho sentito ultimamente ma perché mi servirà anche per un prossimo video che arriva a breve quindi stay tuned perché il pezzo grosso in realtà deve ancora arrivare ciao e alla prossima buon caffè